Benvenuti, molto probabilmente se siete qui è perché avete visto il video su come formattare e installare Windows 10 e alla fine vi dico, dopo aver fatto un reset, una formattazione, un'installazione pulita di Windows bisogna scaricare tutti i programmi di cui abbiamo bisogno. Questo video fa per voi, ma questo non toglie che in qualsiasi momento, indipendentemente se stiamo formattando o meno un computer possiamo utilizzare questi due software che adesso vi consiglio per poter installare i programmi di cui abbiamo bisogno con un semplice click. Perché è vantaggioso un processo del genere? Ipotizzate di voler installare il VLC Player, il più famoso. Dovresti andare su Google, digitare il nome del programma, andare sul sito, scaricare la versione per la vostra macchina quindi per Windows o per Mac e altro, salvare il file, avviarlo, eseguire la procedura di installazione avanti 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 e poi avrete il vostro programma. Questo tool vi permetterà di spuntare con un semplice, come una semplice checklist, tutti i programmi di cui pensate di avere bisogno. Ho detto che vi parlerò di due programmi. Il primo dovremo inserire una semplice riga di comando su Windows stesso senza dover scaricare nessun software esterno. Non dovremo andare neanche su internet. Il secondo metodo è quello di andare su internet, scaricare un piccolissimo file e avviarlo. Dico subito una cosa, se siete interessati solo a scaricare i programmi che vi interessano, guardate direttamente la sezione dove vi dico app da installare. Tutte le altre cose ve le spiegherò ma se non siete interessati potete anche saltarle. Vedrete che io disabilito o abilito alcune cose. Molto probabilmente se non capirete quello di cui andrò a parlare potrete tranquillamente fare quello che faccio io. In caso contrario, se sapete che magari quella cosa che vado ad attivare vi potrebbe interessare, è ovvio che dovete fare il contrario. Andiamo su Start, questo pulsante, e iniziamo direttamente a scrivere, oppure direttamente nella barra di ricerca, e scriviamo PowerShell. Eccola qua, esce già il suggerimento. O clicchiamo qui e facciamo Esegui come amministratore. O tasto a destro, Esegui come amministratore. Diamo la conferma con il sì. In questa finestra andiamo a digitare per filo e per segno questo comando. Ve lo lascio sullo schermo, mettete in pausa e lo potete trascrivere. IWR spazio trattino U S E B spazio H T T P due punti slash slash c h r i s t i t u s punto com slash w i n spazio barra spazio i e x. Questa barra la trovate prima dell'uno più o meno, dovrebbe essere lì. E diamo invio. Come potete notare ho fatto un errore. Basta premere il tasto verso l'alto della tastiera, ricompare lo stesso comando, spostiamoci con le frecce, cancelliamo l'errore e poi possiamo proseguire. Se compare questo comando digitiamo Y e poi invio. Benissimo, ecco la finestra che ci interessa. Che cosa stiamo andando a fare? Praticamente questo programmino è stato rilasciato da uno sviluppatore americano che si chiama Chris Tysus che ha messo a disposizione appunto in semplici quattro passaggi la giusta configurazione di Windows dopo la sua installazione. Quindi sono tutte le operazioni che di solito un informatico, coloro che aggiustano i computer potremmo dire, vanno ad eseguire ogni volta quando appunto formattano un computer. Quindi al posto di andare a scaricare il programmino, impostare una cosa manualmente e tutto quanto, questo tool ci permette di farlo con dei semplici clic e vediamolo. La prima sezione riguarda l'installazione di tutti i tool, i programmi che magari desideriamo avere sul nostro computer. Il secondo, Twix, riguarda le ottimizzazioni che si possono fare con la macchina, con il sistema. Il terzo, lo dice quasi stesso il termine, riguarda alcune configurazioni fondamentali che tra poco andremo a vedere. E il quarto, gestisce la situazione riguardo tutti gli aggiornamenti di Windows. Il suggerimento è quello di seguire queste operazioni partendo appunto dal primo andando all'ultimo. Bene, il browser, o browser, non so, con quale siete abituati, quale vi piace, spuntate la casellina e lo avrete sul vostro computer. Comunicazioni, se vi dico zoom subito capirete di che si tratta. Quindi installatevi quelli che vi interessano spuntando anche qui la casellina. Nella sezione development date un'occhiata. Di solito è indicata per tutti coloro che smanettono con la programmazione o cose simili, quindi se non vi interessa saltatela. La sezione documenti, se conoscete benissimo, l'Adobe Reader ci permette di aprire il file PDF. Io in alternativa uso il Foxit come Sumatra, insomma scegliete voi. Anche il Nodipad è un po' più completo, plus plus. E LibreOffice, sarebbe un'alternativa alla suite di Office. Quindi eventualmente se avete dei documenti che di solito aprivate con il Word e non ce l'avete potrete installarlo. Sezione Games, se siete di quelli che hanno, smanettono anche con i videogiochi. Nella sezione Pro Tools, se non sapete proprio di che si tratta, potete anche semplicemente ignorare. Quello che forse potrei suggerirvi è Raster Remote Desktop, che è un'alternativa al famoso TeamWeaver. Nella sezione Microsoft Tools potreste installare i primi tre, i famosi pacchetti da runtime. Se vi interessa OneDrive, PowerShell, ma eventualmente perché così potremo aggiornare la versione esistente. Un altro tool caruccio potrebbe essere PowerToys, che è un set di strumenti gratuiti, di software, che sono forniti stesso da Microsoft. Magari vi farò un tutorial completo. Nella sezione Multimedia avete questo elenco abbastanza completo, dei lettori multimediali o cose simili. Date un'occhiata, scegliete quello che vi serve. Sicuramente il VLC è uno dei più gettonati. Io utilizzo tantissimo anche ImageGlass, i codec, eventualmente OBS Studio. E l'ultimo mio preferito è ShareX. Nella maggioranza di questi tool che sto spuntando vi lascio il link in descrizione di alcuni tutorial completi e dettagliati. Nella sezione Utilities è consigliato installare 7-Zip, che serve per scompattare i file. AnyDesk per il controller remoto, ma esiste anche TeamWeaver. E' tutto molto soggettivo. Anche qui date un'occhiata e decidete cosa installare. Un altro strumento consigliatissimo è Glary Utilities. Anche Malwarebytes, che vi permette di proteggervi da virus e altro. E' il mio amatissimo Revo Uninstaller. Fatto ciò dovremo procedere a cliccare su Install Selection oppure Upgrade All. Nel senso che se abbiamo già installato questi programmini non farà altro che fare il loro aggiornamento alla versione più recente. Possiamo anche dirgli Disinstall questi programmi che abbiamo selezionato e facciamo la nostra scelta. Aprendo il PowerShell qui dietro le quinte, se date un'occhiata vi è allo stato di tutti i passaggi che stiamo eseguendo, di tutte le scelte che abbiamo fatto poco fa. Tutti i programmi si stanno installando. Quindi, per esempio, io adesso se provo a cliccare su qui Install Features non è possibile perché c'è ancora questo dietro le quinte. Quindi dobbiamo un attimino attendere. Nella sezione Tweaks possiamo decidere tramite questi semplici pulsantini quale configurazione selezionare. Ipotizziamo che abbiamo eseguito l'installazione su un computer fisso, quindi un desktop. Potremmo spuntare questa casellina e automaticamente verranno spuntate le voci in questione. Se è un portatile, se vogliamo una cosa minimal o cancellare tutto, potremo semplicemente fare questo click. Questo non toglie che potremo comunque andare a selezionare con i semplici click quello che lui sceglie o meno. Potete soffermarvi con il mouse per avere una breve descrizione in inglese. Qui non vado troppo nei dettagli perché non è proprio la mia competenza assoluta. In quest'altra sezione invece potremmo spuntare, per esempio, Set Classic Right Click Menu. Questo vale solo per Windows 11. Come potete vedere abbiamo questo pannello facendo tasto destro dove abbiamo Mostra Altre Opzioni. Se desideriamo avere il pannello completo potremmo spuntare questa voce. Un'altra cosa che potremmo disattivare sono le notifiche che personalmente sono molto fastidiose. Un'altra cosa che seleziono è l'estensione dei file. Perché lo faccio? Non solo perché mi ci sono ormai abituato. Ma molti virus potrebbero avere un'estensione dei file che noi crediamo sia, per esempio, un'immagine, ma in realtà è un'eseguibile. Quindi potremmo giocare d'anticipo. Qui possiamo scegliere anche i DNS che ci interessano di più. Per esempio, quelli di Google, ma possiamo lasciare anche quelli di default. Oltre quando abbiamo fatto la nostra scelta, clicchiamo su Run Tweaks. Ovviamente non possiamo farlo perché ci sono ancora i programmini che stiamo installando dietro le quinte. Man mano che questo accadrà vedremo tutti i collegamenti sul nostro computer e dovremo quindi un attimino aspettare. Ok, nella configurazione, nella sezione Config, abbiamo la possibilità di installare alcune features. Per esempio, tutti i framework, la possibilità di installare la virtualizzazione, se per esempio vorremmo utilizzare VirtualBox o simili. Qui a fianco non facciamo altro che cliccando, apriremo i vari pannelli in base alla denominazione che vedete. Quindi, nulla di più. L'ultima sezione è quella degli aggiornamenti. Abbiamo tre scelte. La prima, che è quella di impostare le impostazioni di default in base a quello che Microsoft ha stabilito. Oppure, quella che è raccomandata anche da Chris Titus, che è quella che vi consiglio anche io adesso, ovviamente. Che è quella di, ecco, l'ho impostata, facendo un semplice clic, che è quella di ritardare gli aggiornamenti secondari di due anni. In questo modo non verremo interrotti continuamente, diciamo così, da questi aggiornamenti, ma saremo noi a scegliere quando installarli. Una volta che abbiamo terminato tutte le installazioni, avremo questo messaggio con sottoscritto installazione riuscita. Quindi potremmo andare ad applicare i tweaks che avevamo lasciato in sospeso. Ed ecco che partirà anche questa fase terminata. A posto. Config, la stessa cosa. E dovremmo aspettare. Ottimo. Terminato anche qui. Abbiamo finito. Ora invece parliamo del secondo tool. Helzer Optimizer. Che non è altro che un altro tool simile a questo di Chris Titus. Il quale però ha necessità di scaricare un piccolissimo, ma proprio piccolo piccolo programmino che si esegue. Osservate appena 2 mega. Che si esegue semplicemente con un click. Magari, eccolo qui, scaricatelo. Avviatelo. Vi permette di selezionare la lingua. Una schermata simile a quella precedente. Date un'occhiata anche qui a tutte le impostazioni che ci sono. Potrete, prima di fare una scelta, cliccare sulla voce e leggere quello che andrà a fare l'abilitazione di questo comando. Quando faremo alcune cosucce, ci chiederà di riavviare il sistema per applicare le modifiche. Quello che più vi interessa potrebbero essere le app comuni. Anche qui potremmo andare a cliccare, a spuntare, come potete vedere. Sono più o meno simili i comandi. Con un semplice clic andremo a spuntare quello che ci interessa e poi andremo a scaricare tutti i file. Quindi clicchiamo su scarica e vedremo il download. Clicchiamo su installa dopo download per vedere il risultato. Vi elenco al volo alcune cose che potreste attivare nel caso li andate ad approfondire. Per esempio la prima, abilita miglioramento prestazioni. Disabilitiamo il rallentamento della rete. Disabilita segnalazioni errori. Se non utilizzate una stampante potete disabilitarlo. Disabilitiamo il fax, direi quasi per motivi ovvi. Disabilita tasti permanenti. Disabilito io personalmente l'ibernazione. Disabilito anche il time step NTFS che aumenta leggermente la velocità del disco. Si possono tranquillamente disabilitare tutte le telemetrie dei vari software. Anche quella di Windows. Disabilitare la condivisione media player. Se non lo utilizziamo il gruppo home può essere disabilitato in una rete domestica. E disabilitare per più sicurezza i protocolli 1 e 2. Se siamo soddisfatti non dobbiamo fare nient'altro. Possiamo anche riavviare. Altrimenti se vogliamo continuare con le altre impostazioni non lo facciamo. In Windows possiamo disabilitare storico accesso persone. Come potete vedere scompare. Disabilitiamo le persone. Possiamo abilitare il percorso dei file lunghi. Disabilitare il protocollo TPM2. Se per caso abbiamo Windows 10 e vorremmo installare l'11. Se possiediamo un pc fisso che non è un portatile tipo un tablet possiamo anche disabilitare i sensori. Se non utilizzate una Fire Stick o una Chromecast potete disattivare questo pulsante. Possiamo disabilitare gli inside service. Disabilitiamo anche ancora qui i servizi della telemetria. Cortana se non la utilizzate. Possiamo aumentare la privacy tipo la geolocalizzazione. Disabilitiamo gli annunci del menu start. Disabilitiamo la telemetria ancora una volta di Edge. E se non ci interessa anche l'Age Discover che è quel pannellino che compare qui dopo l'ultimo aggiornamento. Possiamo abilitare la modalità di gioco se siamo dei gamer. Possiamo disabilitare l'Xbox Live se non la possediamo. E anche la Game Bar in linea generale si può disattivare. Possiamo disabilitare Windows Ink. E la terza gli appunti dal cloud. In avvio vediamo tutte le app che vengono avviate all'accensione del computer. Una cosa che fanno bene o male quasi tutti i tool come per esempio Ccleaner. E spuntate quelle che volete che non si avviano in automatico all'accensione del computer. E cliccate su Rimuovi. Ancora una volta sezione Pulizia possiamo eliminare i file temporanei, svuotare il cestino, la cache e quant'altro. Come siamo già abituati magari con altri programmi come lo ripeto Ccleaner. Dopodiché andiamo su Pulisci. Bene il tutorial finisce qui. Vi lascio in descrizione una serie di link nel corso del tempo. Li aggiornerò. Vi spiegherò i programmi che ho installato sul mio computer.